Un ex ospedale militare ospiterà la nuova casa della giustizia Catanzaro. La firma del protocollo è stata siglata a Roma dal ministro della giustizia Andrea Orlando e dal ministro delle infrastrutture Graziano del Rio, alla presenza del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. L'accordo prevede la consegna da parte del comune capoluogo di regione dell'ex ospedale militare all'Agenzia del Demanio. Quando l'immobile sarà completo ed agibile verrà concesso e incomodato d'uso gratuito al ministero della giustizia per 99 anni. Lo stesso ministero si farà carico della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile che diventerà la nuova sede degli uffici giudiziari catanzaresi. Con questo intervento siamo in grado di dare agli uffici giudiziari un assetto più avanzato e moderno ma penso anche che, vada sottolineato il dato, che riusciamo anche a realizzare un forte risparmio rispetto all'insieme degli oneri che gravavano sul nostro ministero.